Quanto ci riguarda la questione Italia-Francia, uno scontro che resta sempre molto teso, quello che riguarda la questione dei migranti. Parigi ha ribadito che non accoglierà più i 3.500 profughi dall'Italia. Ci sono anche oggi le parole del ministro Tajani per quanto riguarda le ONG. Non possono essere le ONG a decidere la politica europea. Ora arriverà una stretta anche su questo fronte e vedremo di che cosa si tratta. Siamo sempre lì, tra pugno duro ma anche il rischio di un isolamento, come qualcuno teme del nostro governo e di Giorgia Meloni. Partiamo subito anche dalla nostra inviata, che si trova a Ventimiglia. Intanto vi presento gli ospiti che sono con noi, Fabio Rampelli. Buongiorno, fratelli d'Italia. Salve, buongiorno. Valerio Valentini per il Foglio. Buongiorno. E Annalisa Chirico per la Chirico.it. Vedo già pronta in collegamento Alessandra Moretti del Partito Democratico. Buongiorno Moretti. Buongiorno, buongiorno a tutti. E se non sbaglio anche già pronto il collega Stefano Montefiori del Corriere della Sera, inviato in Francia. Buongiorno. Allora, credo sia pronta, perché l'ho vista prima nel video, la nostra Raffaella di Rosa, che si trova appunto a Ventimiglia. Uno snodo che in questi giorni è molto sotto i riflettori. Raffaella, buongiorno. Mi senti? Ci sente? No, mi sembra evidente che non ci sente. Raffaella era pronta, però non ci sente. Va bene, proveremo tra poco di nuovo a collegarci. Allora, Rampelli, cominciamo da lei. Situazione tesa e rischiamo l'isolamento. Tra l'altro, insomma, adesso c'è il vertice di Bali e la posizione italiana sembra un po' preoccupare, no? Non mi pare che ci sia questo isolamento, così come qualche menocrano cerca di attestare. Intanto perché comunque l'Italia ha avuto e ricevuto la solidarietà, che poi non è una solidarietà politica, è una partecipazione ai problemi che vengono vissuti sul confine meridionale dell'Europa, da parte di Malta, Cipro, da parte della Grecia. Non l'ha avuta da parte della Spagna, semplicemente perché la Spagna, a parte il fatto che comunque c'è una conduzione socialista e quindi era difficile che potesse schierarsi la Spagna contro Macron, ma al di là delle questioni politiche, i problemi della Spagna sono di tutt'altra natura, perché non ci sono sbarchi in Spagna, c'è anzi un accordo col Marocco, perché l'immigrazione di provenienza è dal Marocco e quindi questo accordo col Marocco impedisce sostanzialmente l'afflusso di immigrati irregolari in Spagna. Quindi la Spagna non soffre delle stesse problematiche di cui soffriamo noi. Poi c'è stato da parte dei Paesi Bassi, da parte della Germania, da parte del Lussemburgo, comunque un diniego all'appello fatto dalla Francia a, tra virgolette, isolare l'Italia, mentre come giustamente ha ricordato il Presidente del Consiglio, Giorgio Ameloni, semmai occorrerebbe cercare di strutturare una risposta europea per isolare gli scafisti, per isolare i trafficanti di uomini, per regolarizzare i flussi migratori, per evitare che l'immigrazione irregolare, oltretutto soppianti l'immigrazione regolare, che è quella di cui hanno bisogno sia gli immigrati sia i Paesi ospitanti. Quindi sinceramente questa definizione non mi torna, poi vedremo nel G20 che si apre domani mattina che cosa accadrà, se ci sarà la possibilità, come noi ci auguriamo, di intraprendere, riallacciare delle relazioni con la Francia, perché ovviamente l'obiettivo dell'Italia è quello di mettere insieme tutti e tutte le nazioni che hanno questo problema. La Francia dovrebbe essere una di queste, visto che Marsiglia si affaccia sul Mar Mediterraneo e quindi comunque potrebbe essere la Francia, semmai la nazione che più di altri insieme alle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, pone la questione di una strategia condivisa per affrontare tutta l'Europa insieme, come è necessario, perché questa è una crisi geopolitica planetaria, il dramma dell'immigrazione, dei flussi migratori attuali. Allora, vado a questo proposito subito da Stefano Montefiori del Corriere della Sera per cercare di capire anche qual è la posizione appunto in queste ore della Francia, una posizione che si è insomma abbastanza irrigidita. Sì, resta, da parte francese resta la rabbia, la sorpresa anche per essere arrivati a questa situazione dopo che nel giugno scorso era stato trovato un accordo su base volontaria naturalmente, però insomma l'Italia all'epoca sembrava essere favorevole a questo accordo a livello europeo per la redistribuzione dei migranti arrivati nei singoli paesi. L'aspetto che il governo francese lascia passare ogni volta nei suoi vari episodi in cui hanno parlato la ministra degli affari esteri, il portavoce del governo Veran, è che è il motivo per cui la loro reazione è stata così rabbiosa, diciamo, che ogni accordo naturalmente può essere ridiscusso e si può riparlare a livello europeo con l'Italia e con gli altri partner se delle nuove esigenze arrivano sul campo. Il punto è discuterne prima e poi mettere in atto le nuove disposizioni, i nuovi accordi. Quello che la Francia rimprovera all'Italia è di essere stata messa con le spalle al muro e quindi il fatto che gli accordi che erano stati trovati nel giugno scorso che stavano lentamente per carità per essere applicati sono stati disattesi e quindi da parte francese c'è la sorpresa per il fatto che quello che era stato deciso col governo precedente Draghi non vale più con il governo Meloni. Quello che dicono i francesi è che gli accordi internazionali valgono al di là dei governi che cambiano a meno che i governi non decidano di ridiscuterli prima. Quello che veramente non va giù alla Francia, in questo ovviamente non faccio l'ambasciatore francese, però sono a Parigi e cerco di trasmettere quello che ho sentito, quello che mi hanno detto gli interlocutori, quello che la Francia rimprovera all'Italia è di essere stata messa con le spalle al muro con un'azione sul campo di fatto prima che venissero ridiscusse certe intese che erano state già trovate. Dopodiché ovviamente il governo francese stesso in realtà non pone neanche troppo l'accento sull'aspetto umanitario, io capisco benissimo e vedo che in Italia c'è molta sensibilità su questa tendenza francese a dare lezioni. In realtà in questi giorni il governo francese, proprio perché sa di non poterne dare lezioni di moralità, è stato tutto sommato piuttosto cauto su questo. Quello che viene davvero rimproverato all'Italia è il fatto di non essere riusciti a coordinarsi per le vie diplomatiche prima che l'Ocean Viking arrivasse effettivamente nelle acque territoriali francesi e quindi che la Francia fosse costretta ad aprire il porto di Tolone. Allora andiamo subito da Raffaella Di Rosa che si trova al confine, se non sbaglio, a Ventimiglia. Giusto Raffaella, buongiorno. Sì Gaia, proprio così, buongiorno a te e i tuoi ospiti. Io mi trovo alla frontiera alta di Ventimiglia, Ponte San Luigi. Proprio pochi minuti fa, forse con l'aiuto dell'operatore e del collega Matteo Nosenghi vi posso far vedere. È arrivato uno dei primi gruppi della mattina di migranti. È arrivato a piedi, accompagnato dalla polizia italiana, dalla caserma francese che ha pochissime centinaia di metri da qui. Erano soprattutto donne e bambini. Adesso sono lì in quel punto seduti che stanno aspettando di sbrigare le ultime pratiche appunto con le loro borse, i loro zaini, soprattutto donne e bambini. Hanno in mano tutti un foglio. Questo foglio ve lo faccio vedere da qui. Ci ha permesso di fotografarlo Bentù, una ragazza ivoriana che adesso è alle mie spalle ma non vuole ovviamente né farsi vedere né parlare con noi. Il rifiuto in tre c'è scritto, rifiuto di ingresso. Bentù, come tutti gli altri, riceve questo foglio dalla gendarmerie, dalla polizia francese ed è il respingimento a tutti gli effetti dei migranti che cercano di passare la Francia. Lei aveva già provato altre volte, è arrivato, ci ha raccontato pochi giorni fa da Lampedusa. Proverò di nuovo, ci ha detto e in realtà ce lo dicono tutti. Noi eravamo qui anche ieri, abbiamo parlato con molti di loro. Loro, questi migranti, cercano di arrivare in Francia e ci provano varie volte attraverso in vari modi. Uno è, adesso da qua non si capisce, ma attraversando quel sentiero, io non so se te lo ricordi Gaia, sicuramente sì. Noi lo raccontammo proprio per Omnibus anni fa, quello che è stato poi nominato passo della morte, cioè un sentiero quassù che arriva in Francia molto pericoloso, passo della morte, perché molti migranti sono morti attraversandolo. E poi ci provano attraverso, con i treni, vengono poi però fermati, guarda la ferrovia, se Matteo esatto ci sta piano piano arrivando, è proprio qua sotto, prendono il treno e vengono poi fermati a Mentone, la polizia, la gendarmerie li controlla, scena che abbiamo visto anche ieri. In realtà io ti racconto queste cose, ma come tutti sappiamo queste cose succedono qui, non oggi, non ieri, ma da tantissimo tempo e si sa. Guarda invece un poco più avanti la coda di auto, quella è l'altra frontiera, la frontiera bassa, Ponte San Ludovico. Quella coda di auto che si sta intensificando in questi giorni è dovuta al fatto che gli agenti, la polizia francese, sta effettuando i controlli, soprattutto sulle auto, ma soprattutto sui furgoncini e sui camion, li fa aprire per controllare che non ci siano all'interno dei migranti. E stiamo parlando dell'aumento del numero di agenti alle frontiere, è ben evidente da quell'immagine, guardate quante camionette, quanti cellulari della polizia ci sono, ne ho contati prima otto, ieri erano quattro, nei giorni scorsi ci hanno detto che qui erano due, i controlli c'erano, ci sono sempre stati, quindi effettivamente il numero di agenti e di controlli è aumentato. C'è anche un agente, e questa è anche una cosa curiosa, che è frutto, figlia dell'intensificazione in questi giorni, c'è un agente, forse la regia ha le immagini di questo, in una piccola cabina che c'è proprio sui binari, perché i migranti cercano di attraversare anche a piedi la ferrovia e anche a piedi l'autostrada, tant'è vero che pochi giorni fa, sette giorni fa, uno di loro, Ahmed Safi, è morto perché stava camminando sulla autostrada, è stato travolto da un tir, ieri c'è stata proprio qui una cerimonia per ricordarlo. Questa è un po' la situazione in questa frontiera, questa frontiera che è diventata di nuovo un simbolo del braccio di ferro, dello scontro tra l'Italia e la Francia, in un luogo, Ventimiglia, che è una città che in questo momento non ha neanche un sindaco, perché il sindaco Gaetano Scullino, che era di centrodestra, è stato sfiduciato a giugno, è commissariata, c'è un commissario prefettizio, e che non ha, e questa è un'altra cosa che è giusto raccontare, che non ha un centro di accoglienza, quindi tutti questi migranti che arrivano qui ogni giorno, si calcola adesso che sono più o meno 200, 250 al giorno, che transitano. Questi migranti, quando vengono respinti, rimangono per qualche giorno qui. E dove dormono? Dormono, si sono costruiti, hanno messo delle tende lungo il fiume Roia. Vi ricordate, c'era qua un campo di accoglienza, campo Roia, che è stato smantellato nel 2020 con il Covid, e non è stato più ripristinato. Quindi i migranti che stanno qui stazionano dove capita, dormono dove capita. E l'unica accoglienza che hanno qui è data dalle associazioni, dalle associazioni umanitarie, dalla Caritas, e questo se vuoi poi lo raccontiamo nel prossimo collegamento, andando proprio a vedere come avviene questa accoglienza. Perfetto, perfetto. Grazie, grazie Raffaella. Sicuramente sì. Allora, Moretti, oggi Repubblica titola così, ultimatum a Meloni, il governo francese definisce la Premier grande perdente, la mette in mora. E Claudio Tito parla di una crisi che Chigi finge di non vedere, un pasticcio che evolve in tragedia. Però, insomma, come abbiamo appena visto, non è che, come ci ricordava anche il collega del Corriere della Sera, non è che c'è qualcuno che può dare lezioni a qualcun altro, forse, no? Proprio così, nel senso che vorrei anch'io sgobrare il campo da un equivoco. Non è che i socialisti o il Partito Democratico sta con la Francia, anzi la Francia non deve insegnare nulla a nessuno per quanto riguarda l'accoglienza. Sono spesso spietati i respingimenti lungo, i confini sono violenti e lei sa quanto io tengo a questa questione, essendo stata poi lungo il confine tra la Croazia e la Bosnia, dove purtroppo ne accadono di tutti i colori. Ma il Partito Democratico ha sempre sostenuto di fatto la necessità di arrivare ad una redistribuzione equa, al fatto che tutti i paesi europei si assumano la responsabilità dell'accoglienza. Attraverso che cosa? La modifica di quel patto di Dublino, siglato nel 2003 dal governo Berlusconi, e che di fatto attribuisce tutta la responsabilità sulle spalle dell'Italia e di altri pochi paesi. Ora, questo patto di Dublino, che noi abbiamo cercato di cambiare tante volte, non è stato mai voluto cambiato né da Malone né da Salvini, né tantomeno da Orman. Quindi quello è il primo passo, perché noi dobbiamo costruire dei corridoi umanitari con i quali governare i flussi migratori e redistribuire, ricollocare richiedenti asilo. E dobbiamo anche smentire la bufala del fatto che l'Italia accoglie molto di più rispetto agli altri paesi. Non è vero, perché la Germania nel solo 2021 ne ha accolti 150 mila, la Francia 100 mila, noi meno di 43 mila. Allora, anche questo va detto chiaramente. Però va detto anche che l'accordo di giugno, come diceva il giornalista del Corriere, era un accordo che Draghi aveva siglato per fare un passo in avanti rispetto al patto di Dublino e per imporre anche alla Francia di assumersi parte della responsabilità. Aver calpestato quegli accordi, a parte che in diplomazia non si fa, perché è chiaro che tu vuol dire che non conosci il linguaggio diplomatico, in questo sta l'incidente, perché adesso la Francia e gli altri paesi si potranno fidare meno dell'Italia per quanto riguarda la sua credibilità e la sua attendibilità. E siccome noi avevamo faticato per acquisire di nuovo credibilità e autorevolezza in Europa, io sono preoccupata per il mio paese più caldo, perché adesso abbiamo patto di stabilità da discutere, gli aiuti per il caro Bollette da ridiscutere, il prezzo del gas che Draghi aveva iniziato. Ecco, io sono preoccupata che tutto questo vada vanificato. Allora, non so se Rampelli voleva dire qualcosa, poi vorrei passare ai colleghi, perché commentava mentre la Moretti parlava. Intanto le iniziative prese per ridiscutere questo regolamento di Dublino sono oggettive in quanto tali non commentabili, tantomeno smentibili. Ricordo che il regolamento di Dublino, per ilità di fare bassa burocrazia, è quel regolamento che prevede che l'immigrato appartiene da un punto di vista amministrativo alla competenza del paese su cui mette piede per la prima volta. Oltretutto c'è una fattispecie che è oggetto del contendere, e cioè mentre le navi italiane, Marina Militare, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, per il cui lavoro non finiremo mai di ringraziarli, vanno in giro e prendono, facendo soccorso, gli immigrati naufraghi e riportano qui, come è necessario fare, le ONG, che hanno una percentuale residuale, sono circa il 20-25% gli immigrati che vengono soccorsi. Crosetto oggi, in un'intervista, le definisce centri sociali sull'acqua. Esatto, sfuggono a ogni tipo di controllo e oltretutto battono bandiera e il codice della navigazione dice che quello lì, quella nave con, che ne so, bandiera tedesca piuttosto che olandese, è un pezzo dello Stato tedesco piuttosto che dello Stato olandese. Quindi l'applicazione del regolamento di Dublino prevede che gli immigrati che salgono a bordo di ONG che batte bandiera straniera appartengono alla competenza, da un punto di vista amministrativo, in applicazione proprio del regolamento di Dublino di quello Stato lì. Almeno riusciremmo, appunto, a sfrondare questo carico importante di immigrati del 25% che proviene dal lavoro dell'ONG. Questa è una puntualizzazione che si rende necessaria. Allora, Annalisa Chirico, sembra un po' a questo Paese essere il giorno della marmotta. Siamo sempre, in qualche modo, torniamo su alcuni temi sempre al punto di partenza. Adesso, insomma, anche oggi c'è chi dice che dietro, insomma, questa linea molto dura ci sia Salvini più che Lameloni, con appunto il ministro Piantedosi che poi era già nello staff di Salvini quando Salvini era ministro. Però siamo sempre lì, alla guerra dei migranti. Ma io trovo sempre un po' sgradevole quando si attribuiscono le politiche del governo del presidente del Consiglio Meloni o del ministro Piantedosi a qualcun altro. I ruoli istituzionali che oggi ricoprono mi fanno pensare che Piantedosi fa, agisce in autonomia, fa quello che pensa o che ritiene giusto di fare. Il presidente Meloni parla perché ritiene appunto che questa sia una battaglia da fare in Europa. È vero, siamo un po' al giorno della marmotta perché fondamentalmente in questi mesi, in questi ultimi anni, nulla è cambiato. Manca una strategia europea in Africa, l'Europa che destina 6 miliardi di euro alla Turchia per bloccare la rotta balcanica attraverso la quale i migranti arrivavano soprattutto in Germania e un'Europa che lascia davvero pochi spiccioli all'Africa, 500 milioni di euro. Per questo il governo italiano torna a chiedere un piano Marshall per l'Africa perché è chiaro che bisogna intervenire su paesi di partenza, sia attraverso accordi con quei paesi, sia promuovendo e finanziando lo sviluppo economico con quei paesi perché la stragrande maggioranza di migranti che arrivano in Italia non sono rifugiati, non scappano dalla guerra ma sono migranti economici. La legge italiana oggi è una legge che è molto chiara sui migranti economici. Va da sé che chi scappa dalla guerra, che sia ucraino di altra nazionalità, ha diritto a entrare ed è accolto dall'Italia. Quindi insomma nulla cambia, per cui ci ritroviamo sempre con la stessa diatriba. Con un cambio di governo cambia anche la linea. Io credo che il governo Meloni avesse esigenza di marcare un cambio di passo rispetto a quello che è accaduto negli ultimi mesi quando al Viminale c'era la Morgese. Gli sbarchi in Italia hanno visto un trend crescente e devo dire che io vorrei pensare, come diceva l'onorevole Moretti, che magari questa politica lasca sull'immigrazione, un po' diciamo l'idea europea che l'Italia possa diventare il campo profughi d'Europa, abbia pagato su altri tavoli. Ma purtroppo vediamo che neanche su altri tavoli la politica, diciamo allora, di Draghi ha pagato. Perché il tetto europeo al prezzo del gas non lo abbiamo ottenuto. Non mi pare che l'Italia sia stata ascoltata su altri dossier importanti, come per esempio appunto la revisione del trattato di Dublino. Quindi neanche il lassismo che c'è stato negli ultimi mesi, per cui era normale che le navi potessero entrare in Italia e dovevamo accoglierli tutti, poi ovviamente vanno in Francia, vanno in Germania, perché i migranti africani hanno più interesse, come confermano i numeri, ad andare in quei paesi. Ma neanche questo ha fatto sì che la voce italiana, addirittura con Mario Draghi, venisse ascoltata seriamente su altri tavoli. Lì l'Europa ha preso tempo, anche con disappunto dello stesso Draghi, e alla fine il tetto europeo al prezzo del gas non c'è. Quindi credo che il governo Meloni e i suoi ministri cerchino adesso di fare un cambio di passo. E credo che le misure che sono in discussione, mercoledì sarà ascoltato in Parlamento il ministro Piantedosi, si parla di sanzioni amministrative per le navi che violano il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Io trovo molto belle le immagini di Ventimiglia, perché mi dispiace che sia stato di fatto sospeso l'accordo di Schengen, però insomma la Francia fa quello che deve fare un paese, cioè controlla le sue frontiere. Dispiace che i cittadini europei debbano scendere dall'auto e far vedere il portabagagli, però è chiaro che lì il Stato francese, pagato dai contribuenti francesi, controlla i confini francesi. L'Italia non riesce a farlo. Perché scuotevi la testa? No, beh, il controllo delle frontiere, per come lo sta facendo in queste ore la Francia, è un po' la negazione di quello che è l'Europa. E questo dice che in realtà il governo francese stamattina, ieri, diceva che Meloni è la grande perdente. A me sembra che ci siano pochi vincitori in questa partita in Europa. Detto questo, la Francia dimostra che se si vuole fare politica interna, diciamo anche propaganda, su una questione internazionale europea, non è che noi italiani siamo più bravi degli altri, sanno farlo anche loro. E quindi applicano quei controlli lì. Dimostrando una cosa, che se in Europa le politiche, nella fattispecie del Trattato di Dublino, non si cambia, è perché, credo per due ordini di ragioni. La prima è che, quanto ai numeri, noi ci raccontiamo una verità, che però non è la verità in Europa. Cioè, il Presidente del Consiglio Meloni, l'altro giorno diceva, noi abbiamo accolti 90.000, la Francia a 117, se ricordo bene. Lo stesso Matteo Salvini ha fatto il post sui social, con la foto di Piantedosi, più o meno dando gli stessi numeri. Ovviamente non è così, perché in Europa i numeri sono altri, sono quelli delle richieste d'asilo, e l'Italia ne ha un terzo, un quarto della Germania, ne ha molti meno della Francia, molti meno della Spagna. E quindi questo conta. La Germania ha 15 immigrati, ogni 1000 abitanti, l'Italia ne ha tre, e anche questo conta. Quando poi ti siedi ai tavoli europei, cerchi di cambiare le regole. L'altra cosa sono appunto le alleanze, anche quelle contano per cercare di indirizzare le politiche in Europa. Il Vice Presidente Rampelli diceva che è un buon successo il fatto che abbiamo comunque Malta, Cipro e Grecia a firmare la nostra petizione. A me non sembra un grande successo diplomatico, a parte che la Spagna non si è sganciata. Tra i paesi mediterranei manca soltanto la Spagna. Che non si è sganciata perché è socialista, perché anche Malta ha un premier laburista, diciamo, del PSE e ha firmato. E Macron non è certo iscritto al PSE o a S&D, insomma, quindi non è un socialista. La Spagna non l'ha fatto perché evidentemente la ritiene una mossa poco intelligente dal punto di vista diplomatico. E sul piano delle alleanze... Ha parlato diversamente sui conti con l'immigrazione dal Marocco. Posso dire però... E dal lato delle alleanze va detta anche un'altra cosa. E a me sembra questo un punto un po' difficile da eludere per questo governo. La crisi, diciamo così, con la Francia nasce anche perché la prima a criticare la scelta di Macron di accogliere questi migranti dell'Ocean Viking a Marsiglia e poi a Tolone è Marine Le Pen che dice è un atto di lassismo assurdo, inconcepibile e così non va bene. Qui c'è un po' il paradosso del sovranismo anche prima quando si diceva l'accordo volontario. Tra i paesi che non hanno voluto nulla di più di quella dicitura accordo volontario sin dal 2019 ci sono Polonia e Ungheria che hanno anche le loro ragioni perché hanno un altro tipo di immigrazione quindi ognuno poi a casa sua persegue i suoi interessi. Però questa internazionale del sovranismo è sicuramente credo un problema per un governo come quello italiano che in realtà poi deve cercare altre alleanze per cambiare le regole. Quando si dice che le ONG sono centri sociali sul mare... Si voleva un attimo inserire anche Anna Liza. No perché interessanti i numeri che dava Valentini il tema è che quest'anno dall'inizio dell'anno su 90.000 sbarchi i ricollocamenti avvenuti in tutta l'Europa sono 117 di cui 38 in Francia sono questi numeri che ha dato il governo. Le richieste d'asilo è vero ricordiamoci il grosso dei siriani e degli ucraini è andato proprio verso quei paesi e non in Italia loro chiaramente sono rifugiati. Un tema per cui non abbiamo questi numeri così alti in Italia è che anche da noi molti di questi migranti che arrivano diventano clandestini cioè irregolari e vengono reclutati nell'economia sommersa nella criminalità organizzata come manovalanza se donne nel racket della prostituzione non fanno richiesta d'asilo all'ufficio. Questo vale anche per gli altri paesi forse gli altri paesi sono più bravi perché arrivano in Italia quindi spesso si perdono addirittura sulle coste sicule non ne hai più contezza non è che li trovi o li riesci a identificare o loro vanno all'ufficio a chiedere immigrazione a chiedere a fare richiesta d'asilo diventano purtroppo manovalanza della criminalità organizzata Allora vi segnalo a proposito del tema delle ONG che adesso affrontiamo e della stretta che arriverà ne parla anche il Corriere oggi naturalmente con Fiorenza Sarzanini soccorso solo in caso di pericolo multe, sequestre della nave insomma il piano del Viminale sull'ONG ma l'apertura di Libero ce la racconta il sottosegretario alla presidenza Fazzolari vi racconto il decreto che fermerà le navi ONG vogliono traghettare i migranti senza le strutture per tenere a bordo i passeggeri una legge glielo impedirà e poi Fazzolari appunto racconta di che cosa si tratta in particolare di questo piano che riguarda l'ONG si allarga naturalmente a parlare anche in maniera più complessiva del rapporto con la Francia di Macron del PNRR ma insomma soffermiamoci un momento su questo piano che ha molto il sapore se andiamo a leggerlo a vederlo e a studiarlo di qualcosa che fece già Minniti e già anche Minniti fece molto discutere soprattutto all'interno del suo partito allora noi ve lo facciamo riascoltare Minniti di qualche anno fa mentre parlava proprio dell'ONG io devo tenere insieme due principi il primo principio è quello dell'accoglienza il primo principio irrinunciabile è quello del salvataggio di una vita in mare poi c'è un secondo problema il secondo problema è che quando arrivo in Italia io devo garantire la sicurezza dei cittadini perché questo è il compito mio e cioè salvataggio in mare e sicurezza dei cittadini allora il punto è questo nel momento in cui la stragrande una parte fondamentale delle persone che arrivano in Italia arrivano diciamo attraverso le navi non governative che sono a tutti gli effetti navi private fino a quando arrivavano e arrivano con le navi della Marina Militare Italiana o della Guardia Costiera è chiaro che non c'è nessun problema il principio della sicurezza viene garantito dal fatto che sono navi militari o navi della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera nel momento in cui sono navi private io ho fatto una cosa semplicissima ho chiesto che venisse firmato un codice di comportamento voi direte ma è una invenzione di Minniti purtroppo no a me avrebbe fatto molto piacere poter dire che è un'invenzione di Minniti sono anche una persona che ha un certo grado di autostima quindi se questa autostima può essere confermata mi fa piacere non è così c'è stata una commissione di indagine parlamentare sul tema dei salvataggi in mare e questa commissione parlamentare all'unanimità ha chiesto che si facesse un codice per regolamentare le attività delle ONG in mare lei sa quante volte nel Parlamento italiano dall'inizio della legislatura si è votato all'unanimità cerchi di indovinare mi dica una cifra Parrini che è esperto quante volte si è votato all'unanimità nel Parlamento italiano mai una sola volta questa è la volta il Parlamento italiano chiede al governo di fare un codice per le organizzazioni non governative all'unanimità il governo che fa lei che è un esperto di diritto parlamentare e soprattutto un convinto democratico se il Parlamento chiede il governo naturalmente opera soprattutto se lo fa all'unanimità Campelli e così Minniti chiuse la questione con questa spiegazione che mi sembra che potete fare vostra ma assolutamente sì sono parole di buonsenso infatti Minniti è l'unico che ci ha capito qualcosa insomma peraltro tanto per dare una risposta questa storia dell'internazionalismo l'internazionale del sovranismo che veniva evocata è risibile intanto perché voglio ricordare che non tutte le nazioni sono uguali ci sono nazioni fatte da 4, 5, 8 milioni di abitanti che se non diciamo così si difendono dall'immigrazione irregolare massiva nel giro di 50 anni non esistono più quindi non è che possiamo paragonare le grandi nazioni con decine di milioni di abitanti alle piccole nazioni che ognuno ha la sua storia da salvaguardare e casomai dovremmo anche ricordarci che esiste un'altra internazionale l'internazionale dell'egoismo ci sarà pure l'internazionale del sovranismo ma c'è l'internazionale dell'egoismo che è quella invece del nord Europa che appunto in taluna circostanza che abbiamo potuto ascoltare anche dai servizi impedisce e dai commenti impedisce anche di mettere in campo delle norme che possano difendere dal punto di vista socio-economico tutta l'Europa dall'aggressione speculativo come per esempio nel caso della speculazione sul prezzo dell'energia e del gas tornando all'immigrazione io penso che tutti si siano resi conto non è che se noi abbiamo un indice di gradimento particolarmente elevato questo è legabile al fatto che tutti i cittadini italiani improvvisamente sono diventati di destra che le modalità fin qui attuate per tentare di contenere i flussi migratori eccezionali sono del tutto insufficiente e quindi va messa in campo un'altra strategia intanto occorre separare i profughi cioè colori quali scappano da guerra e persecuzioni dagli immigrati economici e se noi andiamo a vedere a fare la selezione diciamo così dei paesi di provenienza dagli immigrati che salgono sui barconi guidati dagli scafisti ci accorgiamo che i nostri immigrati quelli che arrivano a Lampedusa e nelle coste siciliane sono tutti immigrati economici al 90-95% non sono dati diffusi da me ma dalle commissioni prefettizie che esaminano le domande di riconoscimento dello status di rifugiato mentre se andiamo a vedere gli immigrati che arrivano quei numeri importanti che ci sono in Germania piuttosto che in Francia intanto sono immigrati diversi e nella maggior parte dei casi sono profughi accertati per esempio adesso ci sono i profughi ucraini ieri c'erano i profughi siriani stanno su altre rotte e fanno comunque levitare il numero noi abbiamo i profughi egiziani i profughi tunisini i profughi bengalesi bengalesi quindi parliamo di nazioni che hanno dei problemi economici evidentemente giganteschi ma non sono sotto diciamo il mirino di bombardamenti costanti e quotidiani sicuramente non saranno paesi super democratici diciamo così ma non ci sono oggettive ragioni che possano indurre a fuggire per fare salva la vita questa separazione la dobbiamo fare perché non c'è nessuna nazione al mondo che sia in condizione di ospitare milioni di persone che fuggono dalla miseria quindi un'altra deve essere la soluzione da Minniti perché qui si va verso una soluzione che non è nuova appunto come abbiamo ascoltato insomma quello che dice Minniti ci ricorda molto il piano che sta per essere varato e sono importanti anche le parole di Minniti quando dice si è votato una volta sola all'unanimità quella è stata sicuramente il governo deve ascoltare quello che il Parlamento decide tanto più se appunto è una decisione presa all'unanimità sono due i principi che vanno tutelati quelle diciamo del salvataggio delle vite in mare cioè le vite in mare in pericolo vanno salvate e le ONG e questo non lo dico io ma lo dicono tutti i dati diciamo a livello europeo internazionali hanno salvato migliaia e migliaia di vite nel Mediterraneo dove non si può diciamo costruire un muro o mettere un filo spinato e sappiamo che nel Mediterraneo purtroppo muoiono centinaia di migliaia di persone ora le ONG hanno sempre aiutato gli stati cooperano con gli stati anche se battono diciamo bandiera o sono organizzazioni diciamo non governative ma comunque cooperano per gli stati per affermare il principio dei diritti umani della cooperazione diciamo in tanti settori è chiaro che da questo punto di vista noi dobbiamo diciamo così coniugare questi due valori ma lo dobbiamo fare senza diciamo dare numeri sbagliati perché per esempio quello che ha detto adesso Rampelli dell'invasione dei milioni di profughi non è così sappiamo benissimo che c'è un 41% di laureati Rampelli italiani che lasciano al nostro paese sappiamo benissimo che ci sono interi settori per esempio quello dell'agricoltura dove gli imprenditori non trovano malauranza al mondo della manifattura ecco io credo che noi dovremmo fare un piano non solo per bloccare le ONG ma dobbiamo fare un piano di governo serio per decidere che ci sono dei migranti anche economici di cui noi possiamo beneficiare perché possono essere delle braccia che vanno a sostituire quelle degli italiani che non vogliono più fare certi lavori lo dico io che sono Veneta e l'urlo il grido degli imprenditori veneti in alcuni settori penso quelli della conceria dicono che non ci sono più italiani che vogliono fare certi lavori e che l'immigrazione regolare però guarda noi siamo sempre stati favorevoli all'immigrazione regolare ti dico scusa per questa breve interruzione siamo d'accordo su questo siamo d'accordo noi siamo sempre stati favorevoli all'immigrazione regolare cioè quella di seguire i flussi programmati dai governi Rampelli allora siccome siamo d'accordo dia ai tuoi colleghi che siedono qui in Parlamento Europeo di cambiare il fatto di Dublino e che non avete mai voluto cambiare e dire che la responsabilità dell'immigrazione regolare ma soprattutto irregolare è di tutti gli stati che la devono regolarizzare attraverso dei piani e dei flussi organizzati come sono i corridoi umanitari questo dobbiamo fare in Europa ma se voi continuate a dirci di no logicamente non possiamo fare nessun passo in avanti il corridoio umanitario è un'altra roba rispetto alla regolarizzazione dei flussi migratori programmati è un'altra roba il corridoio umanitario quindi casomai puoi dire te ai tuoi colleghi democratici nel Parlamento Italiano di essere coerenti con la programmazione dei flussi e quindi con la coincidenza tra domanda e offerta però scusami fai finire anche il tuo interlocutore allora io ti sto dicendo che ci vogliono ma ci sono più livelli di azione non c'è solo l'azione certamente quello della regolarizzazione dopodiché tutta l'Europa deve farsi carico anche dei disgraziati che scappano dalle carceri e dai campi di concentramento libici attraverso dei corridoi umanitari questo dobbiamo fare dobbiamo fare l'uno e l'altro e lo dobbiamo fare insieme ad oggi voi avete sempre detto di no quindi voi siete d'accordo sulla nostra proposta di realizzare il nome per conto dell'Europa o delle organizzazioni internazionali degli hotspot nel Nord Africa con gli accordi bilaterali Italia-Libbia Italia-Tunisia Italia-Egitto perché questa è la proposta allora gli accordi bilaterali noi siamo contrari alle torture ci mancherebbe altro che vengano effettuate nei centri di accoglienza per esempio libici o almeno in alcune parti della Libia però la risposta può essere solo questa siete d'accordo su questa proposta scusami Rampelli fai rispondere perché sei un fiume in piena stamattina che te l'hanno fatto allora voglio dirti è lei che mi stimola no no e vabbè sono contenta no voglio dire che gli accordi bilaterali si chiamano bilaterali perché sono tra stato e stato e quindi è questo che deve fare il governo italiano ma invece in Europa dove c'è una diplomazia europea che va rispettata non voglio dire no vanificando gli accordi che due mesi fa abbiamo fatto ma cercando di rafforzarli semmai modificandoli allora io credo che voi dovrete da un lato riuscire a fare gli accordi bilaterali bisogna vedere se riuscite a farli perché è molto difficile e dall'altro in Europa qui cambiare cosa che vi chiediamo da anni il patto di Dublino e realizzare uno a patto di immigrazione allora fatemi tornare anche dal collega del Corriere della Sera Montefiore Rapellibro che ha fatto gli accordi sui ricollocamenti sono solo teorici e certo non sono stati fatti da Draghi esistono da anni e non sono mai stati attuali anche la missione navale europea è stata non c'è più in Europa è stata smantellata dall'Europa certo l'operazione Sofia non c'è più dal 2020 è stata interrotta possiamo dire che comunque diciamo questa situazione tra Italia e Francia tra Italia e Francia ci sono anche tanti interessi quindi noi siamo partiti per esempio dal titolo di Repubblica Meloni isolata però è anche vero che forse anche la scelta del tempo del timing di questa operazione ha creato non pochi problemi a Macron che ha già problemi al suo interno non è stata forse del tutto casuale ma è ovvio diciamo che la politica estera è un riflesso anche della politica interna ogni Stato ogni Paese fa prendere posizioni che sono espressione della politica interna lo fa l'Italia lo fa anche la Francia il governo di Macron appena due settimane fa aveva presentato un nuovo piano di gestione dell'immigrazione che sarà poi discusso in Parlamento all'inizio del 2023 e questo piano era piuttosto rigido e soprattutto cercava di sottolineare il fatto che si cerca di integrare gli immigrati che effettivamente trovano lavoro e dei quali la Francia ha bisogno e gli altri non possono restare sul suolo nazionale quindi è all'epoca e stiamo parlando di due settimane fa Macron veniva criticato a sinistra per essere troppo duro troppo intransigente nei confronti della manna d'opera straniera adesso le critiche arrivano dall'estrema destra da Marine Le Pen che lo accusa di essere debole la fissa di non essere abbastanza determinato nel proteggere i francesi quindi è evidente che Macron ha risposto in questo modo così duro perché presta al fianco alle critiche di essere debole e questo non se lo può permettere allo stesso tempo va secondo me chiarito o comunque sottolineato una sensazione che si ha qui in Francia molto forte e cioè che il pasticcio diplomatico tra Francia e Italia sia una sorta in parte anche di infortunio sono stati sbagliati i tempi è stato sbagliato il modo in cui è stata posta la questione perché non c'è alla fine da parte francese c'era la disponibilità a continuare a collaborare con il governo italiano anche se è un governo di segno diverso rispetto a quello di Draghi in virtù di un pragmatismo che la Francia sta dimostrando in queste ore per esempio con il Regno Unito mentre stiamo parlando è stato annunciato un accordo tra Parigi e Londra per impedire per cercare di controllare la traversata dei migranti da Calais a Dover in Inghilterra attraverso la manica cosa che ha provocato in questi anni eccolo qua è uscita la notizia sì accordo tra Parigi e Londra ecco in sostanza la Gran Bretagna il Regno Unito verserà 72 milioni di euro nel 2022 2023 alla Francia in cambio del fatto che la Francia aumenterà del 40% i controlli voglio dire che se la Francia riesce a trovare un accordo con il Regno Unito che è talmente poco europeista che dall'Europa è uscito con la Brexit probabilmente si può cercare si poteva cercare si potrà ancora cercare di ottenere un accordo con la Francia e con gli altri paesi europei sulla base dello stesso pragmatismo quello che mi sembra di capire la Francia rimproveri al governo italiano è stato denunciare unilateralmente delle intese che hanno state trovate pochi mesi fa sulla base così di un riflesso un po' che ha fatto dire poi a Salvini che l'aria è cambiata vittoria dell'Italia ecco questi sono atteggiamenti che hanno fatto molto discutere in Francia che sono stati diciamo all'origine secondo me del pasticcio diplomatico che stiamo vivendo proprio perché da parte francese non c'è nessuna volontà di avere una posizione diversa la Francia non sta sostenendo che bisogna accogliere che l'Italia deve accogliere tutti i migranti perché la Francia è buona e l'Italia è cattiva ci sono dei problemi concreti pragmatici da risolvere resta da capire l'Italia se sia più conveniente diciamo trovare la sponda di Malta e Grecia o se invece convenga cercare un accordo ancora una volta pragmatico non ideologico con Francia e Germania e gli altri paesi più importanti dell'Unione Europea ma non c'è dubbio che in questa fase in cui l'asse franco-tedesco è anche in crisi per altri motivi all'Italia conviene interloquire fortemente con la Francia anche per i dossier sull'energia sulla riforma del patto di stabilità su questo non c'è dubbio però il presidente Giorgio Ameloni lo ha spiegato in conferenza stampa che cosa è accaduto e ha spiegato che era uscita un'ansa che diceva appunto che la Francia era disposta a far arrivare la nave sulle coste francesi poi a Tolone e sono passate otto ore in cui questa notizia non è stata smentita detto Giorgio Ameloni per cui a quel punto abbiamo voluto ringraziare la Francia e questo è apparso come una fuga in avanti da parte francese sicuramente sarebbe stato meglio secondo me avere dei contatti diretti tra governi anche informali per avere la conferma di quella notizia giornalistica sebbene l'ansia sia la prima agenzia italiana il fatto che questo non sia accaduto può sicuramente aver disturbato si comprende l'alleato francese la reazione però mi è sembrata un po' sproporzionata nelle forme e anche nei modi nelle parole utilizzate e davvero la sproporzione e la forza la virulente di questa reazione mi fa pensare che diciamo ci fosse anche un retropensiero e che chiaramente l'Italia vorrebbe dialogare con la Francia per la riforma per esempio del patto di stabilità dove i paesi nordici europei hanno già fatto capire che non se ne parla almeno non sulla proposta Gentiloni che peraltro è un commissario italiano e però se ciò non accade l'Italia non può neanche stare a guardare è quasi paradossale che come ricordava il collega del Corriere della Sera la Gran Bretagna cioè il Regno Unito un paese che fuori dall'Unione Europea ottiene di più che è l'Italias questo però è quasi un argomento per i sovranisti cioè che poi non bisogna per forza stare in Unione Europea per trattare al tavolo e portare risultati se sei un paese forte che ha qualcosa da offrire ti faccio intervenire dopo la pubblicità ho un tassativo tra poco allora volevo sentire anche Valerio Valentini torno alle parole di Crosetto oggi perché in questa intervista la verità insomma usa parole molto dure sono le ONG strumento ideologico sono centri sociali in acqua queste organizzazioni si mostrano più interessate all'impatto politico che il loro lavoro provoca anziché alle persone che raccolgono gli scafisti e poi insomma dice Crosetto non ha alcun senso pulirsi la coscienza facendo finta di accogliere i migranti per poi consegnarli a schiavitù sfruttamento povertà o malavita c'è la posizione di Fratelli d'Italia c'è la posizione della Lega c'è la posizione di Forza Italia adesso lo vedremo anche su altri temi che insomma non è proprio così rigida mettiamola così no? cioè da quando ha cominciato questo nuovo governo Forza Italia non fa altro che puntellare ogni ogni provvedimento l'abbiamo visto su Rave insomma con una posizione si manche come era si manche quella di il manche il ministro Crosetto che è il ministro della difesa è una persona molto attenta alle dinamiche diplomatiche sa che lui ha definito centri sociali sull'acqua quelle organizzazioni che l'ambasciatore tedesco in Italia ha elogiato poche ore fa perché salvano le vite in mare al di là della questione di merito c'è una convenienza ad aprire certi conflitti piuttosto che altri in Europa in questo senso tu dicevi giustamente Forza Italia si è smarcata Berlusconi ha lasciato diciamo trapelare delle sue insofferenze rispetto a questa gestione così lui ha usato un discorso almeno per come è stato riportato non molto diverso da quello francese cioè non è una cosa umana non salvarli io li avrei salvati prima tutti e poi avrei cercato di smistarli di ricollocarli eccetera questo dice forse anche di un'attitudine al governo però da parte di Berlusconi non so di chi però poi in Europa deve andare a trattare temi diciamocelo più importanti di quello migratorio perché a me sembra che il paradosso sia un po' questo Giorgia Meloni sapeva benissimo che su tutta una serie di dossier quelli economici sostanzialmente aveva la necessità di mostrare una continuità quasi assoluta rispetto al governo precedente il ministro Giorgetti nel presentare la Nadef è sembrato più draghiano di Draghi più rigoroso più moderato più responsabile financo sul MES che è un po' lo spauracchio è stato lo spauracchio il fumo negli occhi dei sovranisti fino a poche settimane fa ha sostanzialmente fatto un'apertura importante seppur tra qualche balbettio sul gas addirittura quello che era il ministro di Draghi è diventato il consulente del governo Cingolani quindi anche l'idea che Draghi non è stato così bravo in Europa forse la Meloni non lo crede quando lo dice se poi si tiene diciamo così lo stesso ministro seppur in un altro ruolo a quel punto la Meloni ha detto ci sono tutta un'altra serie di dossier quelli più identitari i diritti la sicurezza i migranti su cui invece do un segnale appunto identitario al mio elettorato la mia constituency elettorale e infatti i primi provvedimenti nella situazione che sappiamo attraversare il nostro paese sono stati sui rave e sui migranti sui migranti in questo caso si è toccato il cortocircuito nel senso che si è voluto fare questa dimostrazione di forza che ha irritato però a torto o a ragione ma questo è un discorso per certi versi secondario quello che forse era l'alleato strategico di Meloni in Europa non a caso Macron è stato quello che ha voluto incontrarla sappiamo anche con dei buoni uffici da parte del Quirinale che ha forse non diciamo accelerato ma insomma ha evitato ritardi nella formazione del governo anche forse senza forse per facilitare quell'incontro ovviamente Macron ha fatto una scommessa per la quale è stato anche criticato in patria dalla sinistra gli hanno detto stai con i fascisti cioè ha detto la Meloni un premier di un paese comunque importante ha bisogno in qualche modo di chiamiamolo un accreditamento chiamiamolo una benedizione europea che in qualche modo la legittimi sui tavoli europei in questo momento è uscita la notizia che il Presidente della Repubblica ha avuto con il Presidente francese Macron un colloquio telefonico nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due paesi hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell'Unione Europea ed è una nota del Colle questo dimostra diciamo un po' quello che ci dicevamo cioè non sono così sicuro che per 230 migranti ma fossero anche 3500 cioè quelli al centro del ricollocamento valga la pena isolarsi in Europa alla vigilia di discussioni per noi francamente molto più importanti di quelle sui migranti che sono quelle fondamentalmente di tipo economico si dice che però è la postura del governo dobbiamo far vedere poi torniamo su questo punto su questo si rischia di farsi però il capo dello Stato e non è diciamo cosa che era successa non era la stessa gravità ovvio che si ritirò l'ambasciatore nel 2018 quando ci fu la crisi dei gilet gialli allora torniamo da Raffaella Raffaella Di Rosa che credo no sicuramente si è spostata a te Raffaella sì mi sono spostata ci siamo spostati alla Caritas di Ventimiglia qua come dicevamo nel precedente collegamento è l'unico luogo questa organizzazione insieme ad altre come Save the Children che si occupa per esempio soprattutto dei minori qui a Ventimiglia qua si fa una prima accoglienza poi in realtà sono stata corretta più assistenza ai migranti sono qui con che adesso sono li vedete qua in coda per il pasto per la colazione chiedono anche dei vestiti e poi c'è l'assistenza legale ma ce lo facciamo spiegare meglio da Serena Regazzoni che è qui con me cosa fate qua? Allora noi ormai dal 2015 continuiamo ad erogare i nostri servizi essenziali per le persone che prevalentemente si trovano per strada quindi senza dimora e ormai sono oltre due anni dalla chiusura del campo della Croce Rossa al campo di transito che le persone non trovano più un luogo dove poter dormire dove poter mangiare dove potersi lavare soprattutto quindi anche le condizioni igienico-sanitarie sono veramente molto precarie le persone dormono in strada o lungo il fiume Roia a 20 miglia e quindi quello che facciamo è erogare appunto un pasto caldo presso la nostra mensa e c'è un ambulatorio medico che fa delle visite veramente un po' superficiali nel senso che fanno più che altro medicazioni e poi inviano eventualmente ai presidi sanitari locali e poi c'è uno sportello socio-legale dove cerchiamo di fare un orientamento legale alle persone che richiedono vogliono richiedere asilo oppure sono in Italia da più tempo e devono regolarizzarsi per qualche motivo in realtà le persone che sono qui lo sappiamo lo raccontiamo vogliono soprattutto andare in Francia ed è quello a cui si stiamo di continuo è cambiato qualcosa è cambiata qualcosa negli ultimi giorni con questa stretta e questo braccio di ferro Italia-Francia e questo aumento dei controlli noi per ora non abbiamo notato grazie a cambiamenti a livello di numeri sono sempre oltre i 100 gli 80 ai 100 i respingimenti dalla Francia e i numeri comunque che registriamo al mattino sono sempre gli stessi circa 100 110 pasti ogni giorno arrivano anche moltissime famiglie noi alle famiglie eroghiamo anche un altro tipo di servizio che è un'accoglienza che può durare al massimo tre giorni per le famiglie in transito giusto per tutelare coloro che sono più fragili quindi donne bambini e nuclei familiari in generale c'è lo stato qui a Ventimiglia? ultimamente noi ci sentiamo un po' abbandonati da questo punto di vista e servirebbe veramente un presidio importante perché Ventimiglia continua ad essere un imbuto un imbuto per coloro che cercano di transitare verso la Francia perché esatto è questo la gente vuole assolutamente e tenta di oltrepassare il confine con tutti i mezzi possibili immaginabili anche molto rischiosi perdendo anche la vita sono oltre 30 le persone che sono morte in questo confine dal 2015 ad oggi che cosa vi aspettate? noi ci aspetteremmo la riapertura di un campo di transito sicuramente perché le condizioni sono veramente disumane le condizioni delle persone che vivono la strada cosa vi chiedono qua appunto vogliono andare in Francia sono respinti oggi ci dicevano ma perché la Francia non ci vuole? spiegatecelo voi sì per loro è abbastanza incomprensibile anche ho parlato l'altro giorno con alcune famiglie kurde provenienti dall'Iraq e dicevano ma per quale motivo non possiamo attraversare perché è difficile attraversare perché ci respingono siamo in Europa sostanzialmente sappiamo che in Europa valgono i diritti e le libertà per quale motivo ci mandano indietro e non è non è molto conosciuta questa situazione tra l'Italia e la Francia 20 miglia da parte dei migranti effettivamente e il regolamento di Dublino è un meccanismo veramente molto difficile da spiegare ovvero che le persone devono presentare asilo nel primo paese che raggiungono in Europa perché è il primo paese competente alla valutazione della domanda vengono anche minori minori moltissimi noi ne abbiamo registrati che è sottostimato però ne abbiamo registrati il 12% indicativamente minori non accompagnati che vengono respinti cosa che allora ultimamente da un paio di mesi a questa parte è un po' cambiata diciamo l'andamento della cosa perché l'Italia ovvero la la polizia italiana in frontiera nel momento in cui vede respinti dei minori coloro che si dichiarano minori va ad accertare effettivamente la minoretà tramite le impronte e li riaccompagna alla polizia francese quindi li riporta in Francia fisicamente questa è una cosa per noi veramente molto importante perché è far valere dei diritti che fino a due mesi fa non assolutamente venivano anche negati Gaia se vuoi chiedere qualcosa no no è chiarissima la situazione Raffaella grazie anche perché insomma ti lascio andare e lavorare per il telegiornale delle 13.30 Rampelli due cose ve lo chiede intanto fa impressione sentir dire alla domanda qui lo Stato ci sentiamo sostanzialmente abbandonati e l'altra è su questa telefonata che c'è stata tra il capo dello Stato e Macron che in qualche modo insomma spinge affinché i rapporti tornino dentro certi confini e con certi toni ma fa sicuramente piacere constatare che il Presidente della Repubblica svolge nel miglior modo il suo lavoro e quindi di fronte a una crisi che secondo me è più una crisi di incomprensioni e anche dettata da problematiche di tipo di politica interna per quel che attiene la Francia soprattutto a maggior ragione perché non è una crisi strutturale ma è un inciampo fa piacere constatare che il Presidente della Repubblica come si dice dalle mie parti sa sul pezzo quindi è stato utile mi auguro che possa generare anche una nuova fase di collaborazione perché come ho detto prima noi tutto abbiamo in mente forché metterci a bisticciare con tutte quelle nazioni che sia dal punto di vista delle politiche economiche europee sia dal punto di vista del contrasto dell'immigrazione clandestina devono stare dalla stessa parte voglio anche dire però al riguardo che non si può trascurare il fatto che i russi migratori così come sono stati concepiti finora generano una specie di povertà e disperazione cosiddetta secondaria nessuno si occupa di colori uguali non hanno la forza fisica né il portafoglio gonfio in Africa per pagare il pizzo ai trafficanti di uomini e agli scafisti le persone che avrebbero maggiormente bisogno di essere tutelate e garantite da colori uguali diciamo si riempiono la bocca della parola umanità e della parola solidarietà dovrebbero essere proprio colori quali stanno lì nelle aree subsahariane donne bambini fragili anziani disabili e che non hanno alcuna possibilità di affrontare prima la traversata del deserto e poi la traversata del Mediterraneo a bordo di imbarcazioni di fortuna noi dobbiamo sostenere sicuramente le associazioni di volontariato ringrazio tutti colori uguali nel terzo settore svolgono questa opera meritoria ma quella è un'azione di beneficenza pura la politica deve occuparsi invece di mettere in ordine questa materia che se così non fosse lo dicevo prima e non era una battuta cioè se noi potessimo aprire le frontiere a tutti colori uguali vorrebbero recarsi attraverso la porta dell'Italia in Europa in Occidente noi dovremmo mettere in conto che decine di milioni di persone dall'Africa che è diventato un hub da questo punto di vista perché raccoglie anche l'immigrazione che proviene dall'Asia e da altre dall'America Latina tutti cercano di arrivare in Africa per poi svolgere questa attività di traghettaggio verso le coste siciliane nessuno ce la può fare intanto Moretti Carlo Calenda che ha parlato sostanzialmente è d'accordo con Rampelli perché dice Macron non è fatto diversamente da Salvini la polemica che sta facendo la Francia è rivolta più all'interno che all'esterno parole usate veramente poco fa da Rampelli il mio giudizio è che questo macello sugli sbarchi è inutile tutti i migranti che entrano poi escono e la conferma che non aumenta il numero di migranti presenti in Italia 500 mila noi abbiamo bisogno del supporto europeo ma non prendiamo lezioni da chi chiude la frontiera appunto a 20 miglia Moretti su Libero c'è un sondaggio che riguarda il tema migranti che dice che anche gli elettori del PD vogliono una stretta il 60% dei dem è favorevole a regole più severe contro gli sbarchi e d'accordo con un possibile blocco navale il 57% dei verdi e il 50% dei 5 stelle come dire non è un tema che un tempo si diceva e si definiva appannaggio solamente della destra anche gli elettori del PD tra l'altro posso ricordare che a proposito del PD che sappiamo adesso il congresso chi lo vuole cambiare cambiare nome rifare riabbattere insomma di tutto e di più è stata accolta una proposta anche a sua firma per velocizzare questo congresso che cosa significa? Sì noi abbiamo deciso come alcune un gruppo di donne democratiche abbiamo deciso di suonare un po' la sveglia in un momento in cui ci sembra che il PD che è la prima forza di opposizione nel Paese in Parlamento dovrebbe iniziare a fare un'opposizione dura a questo governo di destra anche su questi temi di cui abbiamo parlato questa mattina e non è pensabile che la nuova leadership venga individuata soltanto a marzo cioè tra 4-5 mesi quando invece bisogna avere una leadership forte con un'identità altrettanto forte con dei temi su cui noi pensiamo si debba lavorare fin da subito e quindi abbiamo raccolto già più di 700 firme su change.org abbiamo lanciato questa petizione e siccome sabato c'è questa assemblea nazionale purtroppo fatta soltanto online quindi mi chiedo se sia effettivamente efficace abbiamo chiesto che il congresso venga anticipato a gennaio perché c'è bisogno appunto che il PD faccia il PD e che non venga stretto dentro a questa tenaglia tra Movimento 5 Stelle e il PD fa il PD però quale PD perché se fa il PD che ha fatto fino a poco tempo fa diciamo non va benissimo qual è il PD? Guardi io credo che il Partito Democratico debba sicuramente trovare leadership perché le idee camminano sulle gambe dei leader e sicuramente capire anche a chi vuole parlare e come vuole dire le cose sicuramente in campagna elettorale abbiamo fatto tanti errori però vorrei ricordare che non siamo il partito che ha perso più voti perché la Lega e il Movimento 5 Stelle ne hanno persi milioni e milioni semplicemente è che noi iniziamo queste discussioni eterne e invece dovremo concentrarci di più sulle questioni concrete ed è la ragione per la quale le donne ancora una volta insomma cercano di essere concrete e pragmatiche e dire che insomma i tempi vanno accorciati si può fare bene anche velocemente quindi non è che bisogna semplicemente prendere tempo io credo che prendere tempo in questa fase sia sbagliato e quindi insomma riteniamo giusto che chi abbia ruoli e responsabilità alzi la voce abbia un po' come dire di coraggio anche per far sentire la voce dei nostri militanti dei nostri iscritti dei nostri simpatizzanti lei si candida? no non mi candido non mi candido però sono molto vigile e molto combattiva perché io voglio molto bene il mio partito e quindi vederlo così mi fa male per cui insomma faccio la mia parte devo anche dire che la faccio qui in Europa e ti dico la verità se avessimo dovuto seguire i sovranisti in Europa il recovery fund non l'avremmo ottenuto quindi bisogna dire che non è vero che sul prezzo del gas non abbiamo fatto nulla siamo riusciti ad avere un prezzo del gas partiale siamo riusciti ad arrivare a stoccaggi comuni di gas ad acquisti comuni di gas abbiamo ridotto la dipendenza dal gas un attimo solo perché vediamo l'arrivo di Macron in diretta a Bali al vertice è sceso dalle scalette dell'aereo l'abbiamo visto inquadrato prima volevo solo dire giustamente mentre parlavi se no potevano pensare fossero immagini di repertorio invece no sono in diretta ed è l'arrivo in questo momento delle varie delegazioni prego scusami non volevo interromperti no 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 volevo dirti che su questo appunto stoccaggi comuni di gas e acquisti comuni di gas ci hanno consentito di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia dal 46% all'8% e quando Calenda critica diciamo l'Italia forse dovrebbe l'Italia la Francia dovrebbe rivolgersi al suo capo perché lui fa parte di Renew Europe e quindi il suo capo è Macron quindi sta criticando il suo capo quindi vediamo insomma ci sono degli atteggiamenti contraddittori anche dal terzo polo però noi dobbiamo fare la nostra parte il PD ha tutta la capacità di fare forze di opposizione lo deve fare in maniera veloce ed è per questo che noi chiediamo ancora di firmare il nostro appello un'ultima cosa poi andiamo in pubblicità e poi torniamo su alcuni nodi come li abbiamo definiti all'interno della maggioranza è stato il fine settimana diciamo così di Eli Schlein nuova con questa insomma di fatto poi candidatura che non è ancora ufficialmente partita perché c'è tutto un percorso cosa ne pensa lei della Schlein può essere la soluzione a un nuovo PD o è totalmente un corpo estraneo che non può funzionare beh Eli Schlein credo che insomma si iscriverà al partito se intende appunto e non abbiamo ancora capito non ho ancora capito se si candida o meno ma penso di sì credo che sia una forza e un'energia molto positiva per il partito democratico noi abbiamo bisogno anche di lei io ovviamente non so quali altri candidati scenderanno in campo si parla anche di Stefano Bonaccini si parla di Dario Nardella Paola De Micheli esatto e quindi insomma c'è un'altra donna in campo io vorrei insomma che ci fosse attenzione per tutti i candidati e le candidate vedremo io mi auguro Gaia che sia una che siano delle primarie vere che lo scontro sia vero anche duro perché noi abbiamo bisogno di questo ridefinire un'identità e ridefinire una proposta politica allora prima della pubblicità è uscito anche il un altro flash questa volta è il comunicato dell'Eliseo i presidenti di Italia e Francia Mattarella e Emmanuel Macron hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno ribadito la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l'Italia questo molto più secco diciamo così in queste poche righe sulla telefonata che c'è stata tra Mattarella e Macron andiamo in pubblicità poi torniamo allora eccoci tornati in studio adesso veniamo anche a questa maggioranza insomma che abbiamo visto si muove con qualche sfumatura soprattutto da parte di Forza Italia però Rampelli lei sa anche perché ci sono un paio di interviste se non sbaglio oggi sui giornali che le sto per chiedere della candidatura alla presidenza della regione Lazio una possibilità o più di una possibilità lei ovviamente ha detto se me lo chiedono io lo faccio però cerchiamo anche di andare oltre questa frase forse non è un caso che ci sono due interviste oggi no interviste non ce ne sono nel senso che sono state riportate delle dichiarazioni io ho fatto a un'intervista che era di tutt'altro genere e natura cioè a Messaggero in cui il Messaggero mi ha fatto anche la domanda sulla regione Lazio giustamente perché a febbraio si voterà io appartengo a questo territorio al territorio romano e laziale e quindi era secondo me abbastanza fisiologico che la facesse non ci ho trovato niente di scandaloso e ho risposto quello che ho sempre risposto nel senso che io sono disponibile a fare quello di cui c'è bisogno decideranno i leader nazionali il presidente del consiglio in primis quando faremo le valutazioni del caso si stabilirà quando si stabilirà visto che come giustamente lei ha detto tra poco insomma penso che dopo il G20 ci si comincerà a mettere la testa fermo restando che anche dall'altra parte del campo non è che ci sia questa linearità insomma perché c'è grande confusione sotto le stelle a sinistra una volta con il candidato a sindaco Michetti non andò benissimo diciamo guardi lì facemmo noi un calcolo molto preciso perché qualche voce maliziosa raccontò una versione del tutto strampalata secondo la quale addirittura il centrodestra aveva candidato Michetti perché voleva perdere le elezioni noi già diversamente dal 2016 compatti al primo turno avevamo la matematica certezza di andare al ballottaggio e quindi abbiamo puntato su una figura terza che potesse in sede di ballottaggio intercettare i consensi diciamo del mondo moderato o addirittura dell'altra parte del campo cioè qualche consenso proveniente pure dal centro-sinistra questa operazione che comunque aveva una chiara indicazione strategica non è riuscita poi siamo tutti buoni a fare diciamo così a esprimere giudizi col seno del poi però aveva una chiarissima indicazione strategica è pronto a correre se serve sanità domiciliare la priorità l'intervista a Fabio Rampelli questa è quella del messaggero? sì c'è appunto una domanda sulla regione l'intervista era sull'Europa sull'immigrazione sul governo e i giornali di oggi probabilmente riprendono quell'intervista perché io non ho fatto altre interviste quindi insomma comunque lei dà la sua disponibilità dando anche le priorità di cui si occuperebbe visto il titolo le priorità quando mi hanno fatto la domanda sulla regione Lazio il 70% delle risorse di una regione sono comunque indirizzate sulla sanità e quindi è stato indispensabile giudicare l'operato della giunta a Zingaretti in modo particolare proprio su questo campo io ritengo fallimentare perché al di là dell'emergenza covid poi c'è l'ordinaria necessità di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e il diritto alla salute dei cittadini è stato un po' trascurato se vogliamo essere generosi e non è un caso che di là il nome di cui si parla la campagna vaccinale nel Lazio ha funzionato bene però è vero che la sanità di una regione non è solo la campagna vaccinale durante il covid infatti il centro-sinistra sembra aver trovato peraltro una compattezza su Alessio D'Amato che avrebbe anche il supporto del centro diciamo di Calenda la partita del Lazio secondo me è importante per il centro-destra perché è chiaro che ha anche la responsabilità di dimostrare non solo nel Lazio ma anche nel Lazio di avere una classe dirigente che è in grado di esprimere delle personalità capaci di amministrare nel nord Italia ci sono le regioni a trazione leghista il Giovanni Totti in Liguria e in Sicilia adesso appunto un presidente che viene da Forza Italia Schifani il Lazio è una partita di fratelli d'Italia e quindi forse anche fuori dalla logica del Papa straniero c'è ogni volta questa idea che si debba pescare dall'esterno Michetti andrò andò male le ricorda onorevole che fu anche un candidato dibattuto dentro la maggioranza perché c'era dentro la maggioranza chi diceva che era un candidato debole proprio per raggiungere l'obiettivo che le diceva poi gli elettori hanno dato ragione a chi non voleva Michetti candidato quindi adesso forse non serve il Papa straniero basterebbe che nella classe dirigente di Fratelli d'Italia nel Lazio in chi segue il territorio da mesi da anni in esperienza ultradecennale possa misurarsi con il consenso degli italiani perché il vento comunque vi è favorevole quindi perché non tentare questa esperienza anziché cercare magari il coniglio nel cilindro che poi talvolta si rivela un coniglio un po' zoppo Valerio Valentino io sarei curioso di fare due domande al potenziale candidato alla presidenza della Regione Lazio o comunque a un esponente molto importante di Fratelli d'Italia nel Lazio la prima è quale sarebbe la posizione di un Lazio governato da Fratelli d'Italia o comunque da un centrodestra a trazione evidentemente meloniana sull'autonomia differenziata e la seconda è se in qualche modo il governo non debba secondo lei resettare un po' o mettere un po' di chiarezza nel rapporto con gli enti locali glielo chiedo il riferimento a due questioni Zaya Luca Zaya presidente del Veneto che dice le trivelle noi non le vogliamo e lo dice quattro giorni dopo una conferenza stampa in cui la presidente del consiglio Meloni insieme al ministro dell'ambiente Pichetto dice le estrazioni nell'alto Adriatico saranno una scelta importantissima e glielo chiedo anche rispetto al vostro sindaco di Piombino di Fratelli d'Italia che addirittura annuncia un ricorso al TAR contro una decisione quella del ricassificatore a Piombino ritenuta anche quella strategica dal governo su queste due questioni energetica in senso lato e quella dell'autonomia un Lazio meloniano un Lazio di Fratelli d'Italia cosa farebbe? intanto per la questione dell'autonomia differenziata è nota la posizione di Fratelli d'Italia e del presidente Meloni l'autonomia differenziata va bene su determinate materie che poi vanno comunque concordate a patto che ci sia un rafforzamento dello Stato nazionale attraverso la riforma costituzionale che preveda l'elezione diretta del presidente della Repubblica o insomma formula analoga che può essere anche l'elezione diretta del capo del governo sulla modalità del sindaco d'Italia e io penso che questo sia molto importante perché può garantire la messa al riparo da qualunque tipo di ipotesi di troppa autonomia che può ledere l'organicità l'armonia nazionale per quello che attiene alle questioni energetiche voglio far presente intanto che non è soltanto il Veneto che è interessato non dalla trivellazione qui non si parla forse c'è stato anche un equivoco che andrebbe chiarito di fare nuove trivellazioni si tratta di riattivare le piattaforme che il PD insieme al Movimento 5 Stelle ha reso inattive negli anni di governo in cui è stata presentata una piattaforma importante un piano che si chiama Pitesai che ha di fatto impedito l'attività di coltivazione esplorazione ed estrazione di un gas lo stesso gas proveniente dagli stessi giacimenti da cui pesca la Croazia sul lato opposto dell'Adriatico quindi senza diciamo così averne un beneficio noi abbiamo i rischi il pericolo a cui fa riferimento il Presidente Zaia di creare una instabilità geologica nel sottosuolo a causa dell'estrazione di gas ma la depressione geologica a cui fa riferimento Zaia nel 2016 però anche voi si può sostenere a questa depressione le ragioni del no alle nuove alle nuove trivelle e comunque noi parlavamo delle trivelle di fronte alla città di Noto in Sicilia che voglio ricordare per persone distratte è patrimonio mondiale il referendum era su tutte le trivelle non solo su quelle di Noto era un no il referendum era su tutte intanto il nostro non era un no ma era un no indirizzato su questo e comunque non era un no a pescare il gas dai giocimenti attuali sentiamo la Moretti a chiudere perché è stato tirato in ballo anche il PD quindi volevo fare replicare no beh innanzitutto sul Lazio la posizione del Partito Democratico è forte e sudamato e quindi noi riteniamo insomma che quello sia un candidato assolutamente forte forte anche di un'alleanza allargata e questo ovviamente fa molto piacere a Calenda la situazione in Lombardia sì esattamente qui nel terzo polo io credo insomma che questa sia la scelta migliore per poter correre con un candidato autorevole e forte forte di una maggioranza coesa su un programma ben definito in Lombardia la situazione è più difficile oggettivamente ci siamo fatti sfuggire come dire Cottarelli che avremmo a mio avviso è dovuto lanciare molto prima rispetto diciamo a quello che ha fatto il terzo polo che ci ha di fatto spiazzato perché su Cottarelli c'era ovviamente anche diciamo un accordo con il terzo polo che poi è stato vanificato da Renzi quindi questo ovviamente è stato un problema ma in politica Gaia i tempi non sono come dire così i tempi sono importanti in politica e quando li sbagli fai e cominci ma è possibile però che onorevole Moretti ma io domando siccome Cottarelli aveva scritto anche la carta dei valori di Calenda viene da una carriera al fondo monetario è un'altra storia ma è possibile che la classe dirigente lombarda non sia in grado di esprimere un candidato alla presidenza della regione no no guardi Calenda è un deputato del partito democratico adesso ma Cottarelli ha scritto la carta dei valori di azione lei si ricorda no no ma infatti secondo me è stato un errore da parte del partito democratico non anticiparli sui tempi perché li avremmo sicuramente spiazzati invece ci siamo fatti come dire ecco turbare da alcuni repensamenti che evidentemente ci hanno rallentato nella scelta adesso ci sono le primarie ci sono le primarie tra come dice giustamente lei Chirico tra deputati tra amministratori del partito democratico speriamo che insomma Marin Maran Maiorino e chissà chi altro mi auguro che facciano presto anche lì perché insomma le elezioni sono a febbraio quindi insomma dobbiamo tenerci pronti ma c'è una classe dirigente giovane che secondo me sicuramente anche in Lombardia va valorizzata rispetto e che meriterebbe di più tra l'altro c'è anche molto molto malcontento nella classe dirigente no nella classe dirigente no tra i giovani tra i giovani del partito democratico infatti tantissimi giovani hanno firmato anni scorsi hanno firmato il nostro appello ma io credo che ad una figura come la Moratti che di fatto è stata comunque molto criticata dal PD per le cose che ha fatto non tanto perché è stata ministra di quello o quell'altro governo io credo che la Moratti vada criticata per le politiche che ha portato avanti c'è una classe dirigente giovane del partito democratico in Lombardia che va valorizzata e che può correre e correre diciamo con ambizioni serie A proposito da Moratti c'è una bella chiacchierata che ha fatto Michele Masneri sul foglio questa mattina proprio ragione regione scusate sentimento allora siamo in chiusura ringrazio tutti gli ospiti naturalmente un aggiornamento sul terribile attentato di Istanbul di ieri la donna responsabile dell'attentato che ve lo ricordo ha ucciso sei persone nel centro di Istanbul è di nazionalità siriana lo ha fatto sapere la polizia Turca è tutto per oggi ci vediamo domani grazie per l'attenzione arrivederci